Come annunciato, la provincia di Teramo sta procedendo all'installazione di autovelox fissi e rilevatori di velocità sulle arterie di proprietà del lente. Questo per contrastare il triste fenomeno di chi non rispetta i limiti di velocità. Il primo sistema è stato installato ed è già in funzione dal 1 giugno in corrispondenza della galleria di Piancarani sulla SP3, la San Nicolò Floriano, ovvero il primo tratto della futura pedemontana Teramo-Valvibrata Marche. Lo farà per un anno fino al 31 maggio 2024 perché al momento è questa per ciascuna delle strade interessate la durata della sperimentazione varata dalla provincia. Il primo di una serie non di autovelox per fare cassa, come qualcuno ha detto, ma l'obiettivo della provincia è far andare le auto alla velocità di codice, che in quel tratto in particolare è a 96 km orari, quindi non basso, su una strada a doppio senso di marcia, sicuramente non semplice per la percorrenza perché ha delle discese importanti, ha delle rotonde, gallerie con scarsa visibilità. Stiamo lavorando per migliorare questi tratti di strada da un punto di vista della pavimentazione stradale, della segnaletica e della visibilità diurna e notturna. Questi interventi, come sulla SP8, sono finalizzati a ridurre la mortalità e gli incidenti sulle strade. Questa iniziativa sarà estesa appena effettuati tutti i passaggi burocratici ad altre strade di proprietà dell'ente, in particolare la SP8 del Salinello, la SP1 del Tronto e la SP28 a Tripinetto. Ci sono dei dispositivi che sono stati installati sulla terra o mare, verranno anche utilizzati come autovelox? Allora, in realtà ora stiamo facendo il monitoraggio, quindi stiamo incrociando i dati dell'incidentalità, sia con mortalità che senza, e delle velocità di percorrenza media. E da questi dati, da quest'analisi, trarremo le conclusioni su quali strade saranno oggetto di autovelox o anche di tutor e quali non lo saranno. Ma sul fronte della viabilità, il presidente della provincia di Teramo ha annunciato che l'ente è al lavoro per la messa in sicurezza della strada aperta solo nel periodo estivo che da Castelli porta a Rigopiano. È una strada che purtroppo d'inverno viene chiusa, viene chiusa perché diversi sia la neve, quando le quantità sono abbondanti, che i massi scendono durante i periodi di brutto tempo, quindi stiamo facendo un progetto preliminare che possa consentire di mantenere aperta questa strada tutto l'anno.